All'Agrigento, al liceo classico Empedocle, nella sede del ginnasio in via Diodoro Siculo, il club Lions Agrigento Chiaramonte ha organizzato un convegno sul progetto Martina Parliamo ai giovani di tumori, lezioni contro il silenzio. Si tratta di un progetto di rilevanza nazionale patrocinato dai Ministeri della Salute e dell'Istruzione, oltre che dal Senato della Repubblica, dell'Associazione Lega contro i Tumori e dalla Fondazione Umberto Veronesi. Ed è riservato ai giovani degli istituti superiori di secondo grado e ha lo scopo di informare i giovani sulle modalità di lotta ai tumori, sulla possibilità di evitarne alcuni e sulla opportunità, nonché l'importanza della tempestiva di Agnosi. Le interviste di Daniela Spalanca. Il progetto Martina e Lions Club Chiaramonte di Agrigento, ecco con quali finalità vi proponete di condurre questo convegno al liceo Empedocle di Agrigento? Intanto io mi devo complimentare con il team, con la segretaria Gianrizzo, con il presidente De Paoli, di aver avuto questa ottimissima idea del progetto Martina al liceo classico Empedocle di Agrigento. Perché vogliamo parlare di tumori al liceo e ai giovani che vanno dai 16 ai 18 anni? Per un fatto semplicissimo, perché è vero che le patologie neoplastiche sono molto più presenti nell'età adulta, ma non è altrettanto vero che non si verificano nei ragazzi. E allora i ragazzi, non per fare terrorismo o per creare problemi sulla psichia, devono sapere che un tumore o una neoplasia prima viene diagnosticata, più probabilità c'è di andare incontro a guarigione completa. E quindi se io conosco bene, o quantomeno conosco una patologia, l'affronto diversamente, è sicuramente la cultura giova contro la lotta ai tumori. E allora, siccome e poiché la cultura nasce a scuola, è la cultura, la culla della cultura, la scuola, quale bellissimo trade union fra il progetto, la scuola e i giovani. E questo progetto e queste nozioni, questi incontri informativi, formativi, che noi faremo in diverse scuole, compreso l'Istituto Liceo Classico Empedoc e Di Agrigento, sarà da risonanza, da cassa di risonanza, anche per gli altri ragazzi che non sono presenti. Cioè io, ragazzo, alunno, che conosco certe cose, le concause, le cause dei tumori, posso riferirle agli amici miei e quindi in questa maniera iniziare, avere una cultura sui tumori e sulla prevenzione. In un settore qual è quello della prevenzione contro i tumori, sicuramente la divulgazione, l'informazione è importantissima. In tal senso il Lions si è impegnato e vuol diffondere questi concetti importantissimi anche nel mondo della scuola. Il progetto Martina è nato nell'anno 2006 a livello nazionale. Il club Agrigento Chiaramonte, Lions Agrigento Chiaramonte, lo sta portando avanti dal 2014 nelle scuole. Per la prima volta siamo al Liceo Classico Empedocle e ci stiamo occupando delle quinte ginnasiali. Quindi proprio l'obiettivo è quello della diffusione e ai fini della prevenzione, perché, come dico sempre, io è la sfida del terzo millennio la prevenzione. E quindi oggi avremo qui due dottoresse, la dottoressa Gettina Sala e la dottoressa Parrinello, che parleranno, esattamente, la dottoressa Parrinello sulla prevenzione e stili di vita per combattere il tumore. E la dottoressa Sala sulla possibilità della prevenzione e conoscenza dei tumori nella sfera genitale, sia maschile che femminile. Importante è la presenza nelle scuole, perché questo non deve essere considerato come qualcosa da tralasciare in un altro mondo, in famiglia o altrove. Anche la scuola se ne deve occupare e si deve fare, come diceva il dottore Salvato, cassa di risonanza.